Grazie a un recente intervento di ottimizzazione, adesso non è più necessaria l'autenticazione a due fattori per acquistare sul tuo e-commerce preferito. Supponendo che tu facci un acquisto al giorno e che il tempo complessivo per il checkout si sia ridotto di 30 secondi, quanti minuti risparmieresti in due mesi? Cioè, ragazzi... Tre minuti. Trenta minuti in due mesi. Un applauso di incoraggiamento. Qui siamo sempre nell'area del famoso carrello, un pagamento a distanza, un pagamento e-commerce, ed è fondamentale ridurre tutti i passaggi del pagamento. Un paio di anni fa è stata introdotta una normativa europea che si chiama PSD2, che ha rafforzato la sicurezza, ma è stato un abbassamento drastico della cosiddetta conversion rate. Cos'è stato fatto da lì in poi? I Payment Service Providers, Nex in Primis, ha lavorato sul miglioramento di questa fase, proponendo una cosiddetta transaction risk analysis avanzata. Siamo riusciti a fare in modo che la percentuale di coloro che effettuano il pagamento senza dover rimettere tutti i dati e fare l'autenticazione a due fattori è diminuita drasticamente, accelerando quindi la user experience e il pagamento. Wow! Wow!